Quattro donne, quattro romanzi, una sola ossessione. È venuta dall'est per trovare il principe azzurro. È sprofondata nell'incubo della tratta delle spose. È un'ex sportiva. Sa che spesso si perde, ma a volte si può anche vincere. Xenia si vendicherà a maggio 2013. È romana, schietta e di vedute aperte. Vende profumi. Su marito l'ha lasciata in un mare di guai. Tradita e umiliata. Dovrà trovare la forza del riscatto. Eva si vendicherà a giugno 2013. Chi è Sara? Qual è la sua vera identità? Cosa le è accaduto per renderla così spietata? Sara si vendicherà a settembre 2013. Per i suoi clienti, Luz è la migliore. Dolce, calda e fantasiosa. Ma guai a toccare le donne che ama. Luz si vendicherà a novembre 2013. Xenia, Eva, Sara e Luz sono le vendicatrici. Quattro romanzi, quattro vendette. Di Massimo Carlotto e Marco Videtta. Nelle liberie da maggio 2013. Nelle liberi da mattia. Sia, Eva, Sara. Nelle liberi da mattia. Nelle liberi da mattia. Quattro romanzi, quattro romanzi, quattro romanzi, quattro romanzi. Grazie a tutti